benvenuti bentrovati a sky tg24 economia 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata oggi qua da roma con tutti gli ospiti qua da roma con me abbiamo alberto bagnai responsabile economico della lega vicepresidente della commissione finanze grazie di essere con noi grazie a lei per l'invito grazie a lei per essere con noi per il risultato lei un freddo schermo da qualche parte se lei mi venisse a trovare più spesso cosa che tabacci pastorella hanno fatto qualche volta a rogoredo da santa giulia dove abbiamo la sede mi vedrebbe più spesso però immagino rogoredo la periferia di roma verrò spesso rogoredo milano partiamo da quello che è accaduto cioè via libera i top jobs way ma senza l'ok dell'italia bagnai come noi ma nemmeno del tutto come noi nel senso con alcune differenze loro orban ha votato sì per per costa solo orban la premier meloni ha votato contro la nomina di costa alla presidenza del consiglio contro quella di caia callas come alto rappresentante per la politica estera e si è astenuta sulla riconferma di ursola fondale è arrivata questa notizia in maniera privata no no assolutamente no non sono così importante è arrivata questa questa notte insomma come come è arrivata a tutti che cosa vuole che le dica due no a una stensione siamo sicuri che sia la scelta giusta per dare all'italia il peso che le compete quello che ha scritto giorgio meno a mio avviso si considerando che abbiamo chiara evidenza del fatto che la strada finora seguita dai governi di sinistra che era quella della subalternità totale al progetto europeo non ci ha reso particolarmente più autorevoli almeno a giudicare dai risultati che poi questa subalternità ha portato qui ci sono esponenti di tre partiti nessuno dei quali è un partito dell'uno vale uno e quindi forse vale la pena di mettere in chiaro anche un punto metodologico che è che se naturalmente l'essenza della democrazia richiede che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione è evidente che il pensiero di una persona che i danni delle politiche di austerità li aveva denunciati 12 anni fa 14 anni fa e spiegando anche chiaramente quali sarebbero state le ricadute politiche cioè da persona di sinistra spiegando alla sinistra che il paese e l'europa sarebbero finiti a destra beh evidentemente a maggiore credibilità di chi invece così ignaro e delle potenziali conseguenze queste politiche le ha messe in campo quindi diciamo così stabiliamo innanzitutto che dal mio punto di vista cioè dal punto di vista di uno che questa roba se l'aspettava e aveva detto che sarebbe arrivata lo scrissi sul manifesto che le politiche di destra cioè quelle del pd nel lungo periodo avrebbero favorito la destra e ho messo come dicono gli americani quelli bravi ho messo i miei soldi dove dove mettevo la mia bocca no sa dicono così fai presto essere un economista vediamo se hai il coraggio di investire in quello che tu consigli agli altri ho investito politicamente dove temevo che si sarebbe andati a parare e non è un male non è un male che gli elettori si esprimano mentre dal mio punto di vista è un grandissimo bene che l'europa abbia mostrato la sua natura perché gli elettori hanno dato un chiaro segnale e l'europa ha detto chiaramente che se ne infischia più chiaro di così neanche le apparenze della democrazia e del rispetto della volontà popolare si riescono a mantenere in quello che rimane lo sportello unico del lobbista un gigantesco comitato d'affari del capitale internazionale questo è tabacci la questione molto semplice è dal 79 che il parlamento europeo si diciamo è chiamato a decidere con un voto segreto sui commissari che sono stati sicuramente anche italiani nel corso di questi anni poi abbiamo negli ultimi decenni due presidenti del consiglio come berlusconi e prodi che erano esattamente corrispondenti ad un'area dei popolari era un'area vicino ai progressisti e socialisti questo è quindi non è che collocarsi fuori da questo e poi meravigliarsi che ci siano degli effetti è una cosa che mi pare di grande dilettantismo il risultato pratico è che non ha toccato palla io sono qui per ascoltare la voce della collega pastorella però mi permetta di dire una cosa anche il collega tabacci però mi permetta di dire una cosa io ho detto esattamente il contrario che non sono assolutamente meravigliato di queste dinamiche e il collega tabacci ha rettificato in parte garbatamente il vostro servizio perché ci ha ricordato una cosa che ieri non sono stati decisi i cosiddetti top jobs ieri è stato deciso chi andrà il 16 luglio di fronte al parlamento di fronte a un parlamento dove con una maggioranza ancora più sinistra dell'attuale la von der Leyen è passata per nove voti e adesso diciamo così sono assolutamente a supporto delle considerazioni del collega tabacci sul fatto che la situazione è molto incerta per quelli che pensano di avere in tasca il destino ricordiamo quanto avete giustamente puntonella al di là delle scelte del nostro governo che comunque le lascerò commentare tra cene e decisioni di ieri sera l'europa esce più forte più debole l'europa esce con una spiegazione molto semplice che si chiama democrazia e quindi se dei partiti che sono stati eletti decidono di formare una maggioranza che è la maggioranza che ha governato l'europa da quando è nata non si deve gridare al colpo di stato si dovrebbe gridare a questa la democrazia ecco aggiungo un ulteriore tassello di cui non abbiamo ancora parlato che è la nomina poi degli altri commissari anche lì rischiamo di non avere una vicepresidenza di quelle pesanti diciamo con sotto altri commissari con altro portafoglio perché la Francia farà pesare e probabilmente si pare ricandiderati e ribretto al portafoglio economico a proposito d'economia la gara sembra essere breton fitto esattamente quindi anche lì uno semina cioè raccoglie quel che semina e se ha seminato male in questi mesi non ci si può aspettare altro ma cosa ha seminato che alle prossime elezioni non sarà votato neanche dai parenti cioè dobbiamo anche porci questo tema cioè qui si parla si evocava il nome della signora von der leyen come prima è stato evocato biden e appunto è stato evocato il fatto che i democratici cercano un piano b ma senza la b di biden perché hanno visto che non è spendibile voglio anche ricordare che l'osservazione che biden non fosse spendibile fino a un mese fa veniva bollata come tirare del complotto i video dove si vedeva questa persona in stato di non piena lucidità venivano bollati dai fact checkers come c'erano in giro molti video c'erano in giro molti video esagerati rispetto abbiamo visto che tutto sommato la realtà ha superato la fantasia io non so se ci sarà un piano v con la v di von der leyen perché alla fine ricordiamoci come siamo partiti l'altra volta quando non da per certo che la von der leyen possa portare a casa tutto non do per certo che sia la von der leyen perché avevamo dato per certo la volta scorsa che fosse timmerman se abbiamo visto è finita ma insomma non entro in questo sicuramente quello che ha dato fa io non parli non parlerei di aria di colpo di stato come lo so che ha fatto il mio capo ma insomma io posso anche di sentire all'interno del mio partito dai toni a seconda della la quale ci si rivolge ma il dato è che però gli cittadini elettori europei a mio avviso mi sono permesso di dire sommessamente in aula questa cosa non credo che siano disposti ad accettare l'idea fantasiosa che chi è stato parte di tanti problemi possa essere parte della soluzione e oggettivamente la signora von der leyen quella che a dicembre 2017 venne in parlamento a intestarsi tutto il pacchetto di politiche verdi con tutte le perdonate il 2019 prima della pandemia venne a intestarsi tutto il pacchetto con tutte le conseguenze estremamente nocive per l'economia europea non italiana europea esponente di un paese che mentre si ergeva a campione dell'europeismo e suppongo anche dell'atlantismo faceva la sua pace separata energetica con la russia a nome di tutti gli altri europei esponendoci e fragilizzando e fragilizzando la nostra struttura produttiva non sono sicuro che la le pen lo risolverà il problema ma sono abbastanza certo che questo gesto di arroganza di riproporre lo stesso vertice irriterà gli elettori francesi si chiama democrazia si chiama numeri in parlamento le destre hanno la maggioranza in parlamento non avevano un'altra persona da proporre parliamo anche dei commissari perché effettivamente avete già detto un paio di nomi io stesso ho fatto quello di fitto alla lega che commissario teniamo interessa a questo punto nonostante voi voterete contro o ci possono anche dare la delega al nulla e non cambia nulla ma come ha spiegato il collega tabacci sono votazioni separate e quindi noi innanzitutto abbiamo espresso contrarietà verso la persona della von der leyen che non ci sembra in grado e poi vediamo chi si chi si presenterà perché allora i vostri sono tutti telespettatori evoluti e lo sanno ma c'è diciamo ci sono diversi livelli come anche ha fatto notare il collega pastorella no perché c'è una maggioranza parlamentare che c'è non c'è di destra di sinistra poi però ci sono i governi nazionali dove le sinistre stanno drammaticamente perdendo supporto in portogallo in francia in germania quindi in paesi non banali e dove abbiamo dei governi di sinistra che non sono più rappresentativi del loro elettorato che faranno delle proposte di sinistra a un parlamento dove diciamo in commissione non c'è più questa maggioranza di sinistra granitica quindi saranno molto interessanti le audizioni dei commissari sicuramente il collega tabacci ricorda visto che noi siamo così nati nel secolo scorso l'audizione del collega dell'onorevole buttiglione in lo tempore insomma sono stati casi aveva detto che era un peccato una certa cosa quindi si è andato a un passo da essere commissario è un peccato che che l'abbia detto perché non è diventato cardinale Cosa ci dobbiamo augurare? Io penso che lo che diceva anche l'onorevole Pastorella che direttamente è lo stesso Bagnai insomma gli elettori europei hanno votato poi ogni paese vota come sulla base delle condizioni che si sono determinate ci sono anche delle influenze politiche dei cicli elettorali però ha votato adesso gli eletti sono quelli e gli eletti devono fare certe cose Ora l'idea che noi qui strologhiamo come si può immaginare che le cose si evolvano insomma quello che viene fuori La interrompo solo per proseguire il ragionamento di Bagnai lui diceva chi propone sono i governi nei governi non è il caso dell'Italia ma è il caso invece di molti altri paesi quelli che hanno proposto non sono quelli che poi hanno preso tantissimi voti Comunque noi veniamo da Vediamo di evitare di citare due milioni e mezzo di voti che avrebbero preso la Meloni perché nel contesto europeo questa cosa non ha nessun rilievo in Italia si vota con un certo sistema elettorale anche con le preferenze quindi vediamo di evitare il problema è che qui abbiamo avuto una campagna arrembante sulla superiorità della politica estera del nonorevole Meloni Presidente del Consiglio rispetto a tutto quello che c'era prima io ovviamente non voglio neanche mettermi a giudicare perché rischiamo di mettere in evidenza l'attuale Presidenza del Consiglio rispetto alla storia della cultura europeista del nostro paese e non cito De Gasperi perché non mi sembra neanche il caso Allora, dov'è questa superiorità? Dove la si nota? Quella di infilarsi in un vicolo cieco? Perché il fatto che su due, su tre, ci sia un voto contrario e che sul terzo voto ci sia stengo vuol dire che non sia stati i protagonisti Tamaci, le chiedo a entrambi vi seguo nel ragionamento abbiamo proseguito quello che ha appena detto Bagnai però vi aggiungo una cosa che fra l'altro ha detto l'altro giorno la stessa Meloni l'Europa potrebbe proprio per questo mancato voto per quanto riguarda Fondellaia e i voti negativi per gli altri due nomi bendicarsi tra virgolette l'Europa davvero potrebbe fare qualcosa del genere ad uno stato così importante per l'Europa complicata Ma non è un problema ma è anche la candidatura di Fitto che ho visto avanzare ma in quale contesto si colloca? Non è che c'è uno spazio predefinito per un commissario al di fuori di un contesto politico perché anche questo deve passare dal voto dell'Assemblea quindi non darei per scontati dei nomi perché mi sembra sbagliata si continua a rendere conto che noi saremo protagonisti di un percorso politico di cui non siamo protagonisti l'Italia è protagonista storicamente di un percorso politico europeo e questo non può essere contestato siamo stati tra i padri fondatori adesso siamo in 27 e non siamo in 6 e l'idea è che dentro questo contesto noi siamo protagonisti perché dialoghiamo con Orban piuttosto che con quelli del club mi sembra che ci sia un po' di strada da percorrere allora le dialettiche le vedremo io registro però che ho sentito anche la relazione dell'altro giorno della Presidente Meloni e sono stato molto deluso del taglio complessivo perché c'erano semplicemente critiche all'Europa critiche all'Europa come se noi potessimo continuando a citare le nazioni potremmo avere un ruolo come singole nazioni mi permetto di ricordare che nel G20 sono entrati recentemente negli ultimi anni colonie di paesi europei ma quei paesi europei che erano della grande potenza coloniale non c'è traccia nel G20 in particolare mi riferisco alla Polonia al Portogallo e all'Olanda allora vediamo di non esagerare è chiaro che stare in Europa è la condizione minima se vogliamo avere un protagonismo nei prossimi anni se pensiamo che ci siano le nazioni ah avanti avanti vediamo vediamo le nazioni forse neanche per i tedeschi ci sarà lo spazio solo per dire che penso che la Lega paradossalmente sia stata più onesta nella campagna elettorale perché non ha mai tentato di far credere che il cordone sanitario che in questi anni è sempre stato costruito attorno al partito al gruppo di identità democrazia dove la Lega siede al gruppo dei conservatori potesse essere rotto Giorgia Meloni invece ha illuso gli elettori facendo credere che lei potesse rompere questo cordone spostando la maggioranza eccetera senza però aver costruito i presupposti per farlo davvero secondo me questa è la grande delusione giusta degli elettori di Giorgia Meloni meno forse di quelle di Salvini e della Lega perché ripeto non hanno mai tentato di raccontare questo ma Giorgia Meloni ci ha fatto credere ha fatto credere al paese di essere collaborativa immagino che il tentativo ci sia stato non tutte le ciambelle scontrollate forse c'è stato ma il risultato purtroppo è quello che è e lo dico purtroppo perché poi i due piani sono separati ma sovrapponibili e quindi l'Italia ne risente questo è un problema mi consente 75 secondi ma anche di più allora io a beneficio degli telespettatori evoluti che ci seguono io vorrei che riflettessimo sulle cose che sono state dette un po' anche a mezza bocca allora partirei per seniority dal collega Tabacci che è il decano di questa nostra riunione e ci ha ricordato insomma che noi abbia che non riusciamo a essere protagonisti perché cerchiamo di dialogare con Orbán anziché con quelli del club allora quindi l'Europa già si configura nella mente l'ha detto un po' involontariamente forse non voleva dirlo ma l'ha detto lo riascolteremo si configura nella mente dell'onorevole Tabacci come qualche cosa dove c'è diciamo il salotto buono da cui noi saremmo usciti per insozzarci nel contatto con l'Ungheria che peraltro è un paese che ha una lunga storia è una cultura con radici profonde ma quindi l'Europa ha due velocità abbiamo quindi possiamo mettere gli atti che non è questo blocco granitico poi non siamo stati protagonisti ma se quelli si sono visti hanno deciso per i fatti loro senza tener conto dell'unico governo stabile in questo momento d'accordo con un buon supporto con dei buoni fondamentali macroeconomici perché come dico sempre io grazie al fatto che la sinistra ha fatto il lavoro sporco adesso l'Italia non ha problemi di competitività sta crescendo eccetera eccetera l'errore in cui però c'è dentro la Lega non voleva starci l'errore è stato l'errore è stato l'errore è stato loro il cordone sanitario evocato vengo dove mi importa il cuore alla collega Pastorella ma vi sembra normale che si parli di cordone sanitario allora io che faccio adesso me ne torno in commissione enti gestori faccio un cordone sanitario e ho la vicepresidente il presidente Furlan decade e ci metto un parlamentare di Fratelli d'Italia perché faccio il cordone sanitario ma vi pare possibile che possa che si usa per spiegare quello che è sempre successo cioè che il Parlamento europeo non ha attenzione neanche per le forme della più elementare democrazia noi abbiamo da un lato la Germania dove la presidenza della commissione bilancio la presidenza della commissione bilancio va all'opposizione poi dopo però quando i tedeschi vanno a Bruxelles diventano belgi cioè diventano quelli del Congo belga e fanno lo sterminio di chi non la pensa come loro degli untermension non funziona così rimango con lei Bagnai oddio no sì nel senso che volevo farle una domanda prego Salvini parla di colpo di Stato lei ha già detto che è eccessivo Meloni serve per farsi capire rende l'idea anche se è un po' diciamo ovviamente Meloni ma è un colpo di Stato perché l'Europa non è uno Stato ma solo per questo altrimenti se ne potrebbe parlare è un colpo di non Stato Meloni teme che ce la facciano pagare stiamo tornando all'Italia contro l'Unione Europea che la Lega conosce bene posso? prego allora io non l'ho detto io l'ha detto la Meloni sì 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 voglio rassicurare la mia amica Giorgia su questo io da prima di entrare in politica siccome mi ero permesso di riflettere diciamo così commenta relativamente pura sulle vicende europee e sull'euro ricordate e di evidenziare alcune criticità quindi già molto prima di entrare nel meraviglioso mondo della politica mi confrontavo con i cosiddetti mercati e con la cosiddetta Europa d'accordo? i mercati vai a dirgli ma non sarebbe meglio se non facessimo stilità l'Italia crescerebbe politiche fiscali più rossi sì sì certo sarebbe meglio ma l'Europa non vuole poi vai dall'Europa ma non sarebbe meglio se i mercati si preoccupano quindi un gioco delle parti allora adesso il punto però è uno solo che se dovessero attaccare noi non potrebbero non attaccare anche la Francia ci sarebbe il contagio e se attaccano la Francia succede un problema perché si ricorda la famosa frase noi non siamo qui per chiudere gli spread che disse la Lagarde quando sembrava che il Covid ce l'avessimo solo noi si ricorda anche perché poi la Lagarde tornò e annunciò il problema di acquisti perché Societe Generale si vede ancora tra i numeri ce l'ha ognuno sul telefonino in corrispondenza di quelle parole fece un tonfo pazzesco e non è che la situazione lo dico con rispetto di quell'istituto e di molti altri istituti bancari sia migliorata tantissimo nonostante la fase dei tassi alti abbia contribuito a fare i loro bilanci la economia francese in questo momento ha serie fragilità che adesso scoprono anche gli altri che sono problemi di competitività e sono anche il fatto che in Francia le riforme non puoi farle perché è una bomba sociale che è particolarmente deflagrante perché si interseca con la situazione di immigrazione molto molto complicata commenteremo il voto francese quindi non ci attaccano altrimenti avrebbero già cominciato e non siamo all'Italia contro l'Unione Europea ma assolutamente no ma non è questo ma scusate ma quando abbiamo detto no al mes che era un no che aveva un suo fondamento ci hanno attaccato è stato Italia contro l'Unione Europea ne hanno dovuto prendere atto perché purtroppo le forme della democrazia oltre un certo limite non possono non rispettarle Pastorella no mi fa solo sorridere che si evochi l'Europa come l'Europa dell'austerità le ultime regole di governance europea le ha votate il governo Melone sono regole che sono più stringenti di quelle originariamente proposte dalla Commissione il nuovo patto di stabilità in maniera interessante tra l'altro potrebbe essere che il portafoglio per tornare ai commissari sia proprio quello del Next Generation EU che tutto è fuorché austerità è una pioggia di fondi che ha investito spero in maniera positiva vedremo alla fine il nostro paese quindi che l'Europa anche sono d'accordissimo chi si è debito questo è uno dei problemi ma dovrebbe essere un debito buono come dicevamo draghi e delle opportunità debito buono e investimenti non debito cattivo dipende come sarà spesso è debito tutto questo solo per dire che l'Europa anche evolve ma per essere al timone di questa evoluzione bisogna stare seduti al tavolo e dire tipo il bambino maestra gli altri stanno giocando e non mi hanno coinvolto come ha detto mi permetto di parafrasarle in maniera un po' banale però dicendo che gli altri hanno deciso io non c'ero accidenti allora la prossima volta non rivolgerti alla maestra rivolgerti ai tuoi coitani e cerca di far parte della partita di pallone e allora prima di tornare da Bruno Tabacci del club come aveva detto il collega Tabacci forse quelli che vogliono andare avanti verso l'integrazione europea avremo modo di sentire la replica di Tabacci prima però andiamo dalla collega del sole 24 ore Deborah Rosciani per sapere come sono andati i bambini e poi i bagnai sempre sul green deal sì sì assolutamente ma noi siamo stati molto critici ma forse bisognerebbe spiegare che il green deal non è intanzitutto non è un regolamento e non è un monolite è una comunicazione al cui interno stanno poi una serie di direttive principalmente alcuni regolamenti tra cui la famosa case green tra cui quella sulle automobili elettriche eccetera Azione ha sempre tenuto una posizione critica abbiamo calcolato il nostro centro studio il nostro responsabile energia che ci vorrebbero all'incirca l'equivalente di 5-6 super bonus quindi questo sperpero di denaro che è stato fatto anche purtroppo con l'accordo della Lega per implementare nelle tempistiche date dalla commissione gli obiettivi delle case green Bagnai eccomi sono qua sto cercando un'informazione biografica che mi serve tanto registriamo che lei ha molto verde nel senso gli occhiali anche la cover del telefono sì ma ho come la sensazione che la collega pastorella sì perfetto allora assente è giustificata no perché ha appena detto una inesattezza cioè che la Lega a suo tempo aveva votato a favore del super boss non era tecnicamente possibile perché noi votammo contro nel lontano ahimè e in fausto 2020 però essendo assente la collega pastorella è giustificata ma l'avete difeso non è una non è io non avrei mai pensato cioè non mi fate non mi fate andare oltre il Green Deal ma guardate il Green Deal è stato semplicemente un tentativo disperato da parte della Presidente von der Leyen di mettere i soldi dell'Europa sulla riconversione dell'economia tedesca questo è stato poi il senso dell'operazione il tentativo che rispondeva un atteggiamento fortemente aggressivo degli Stati Uniti che è iniziato con il Dieselgate e che è arrivato poi ad altre cose insomma ci sono tante sono successe tante cose che alla Germania non hanno fatto comodo per esempio essere stati staccati dalla canna del gas e su quello noi non sappiamo ancora non eravamo lì ci sarà un giudizio della storia ma chiaramente il separare così drasticamente la Germania dalla Russia perché durante la guerra ancora continuavano a servirsi di quel gas e quindi l'impedire alla Germania di fare quest'ennesima forma di dumping il dumping energetico è stato qualcosa che ha steso quell'economia ma tutto questo nasceva da prima tutto questo è nato dalla svalutazione competitiva dell'euro che ha fatto esplodere il surplus tedesco e che ha fatto innervosire gli Stati Uniti cioè se voi vogliamo seguire la catena delle cause si arriva alle inefficienze del progetto europeo che poi provocano queste cose ma lei non prende minimamente in considerazione ci sia bisogno di mettere in piedi un green deal ma naturalmente c'è bisogno no un green deal no che ci sia bisogno di favorire il progresso tecnologico di vivere in un mondo più pulito di pensare bene il mix energetico eccetera 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 sì che ci sia bisogno di tante piccole opere pubbliche sui territori per mitigare l'impatto dei fenomeni meteorologici estremi che ci sia bisogno di ripensare il ciclo dell'acqua e quindi come ministro Salvini se ne sta occupando questo sì che la riduzione delle emissioni italiane o europee sia determinante per gli equilibri mondiali non lo crede nessuno l'ultimo intervento è quello di Tronchetti Provera che diciamo così raggiunge la Lega in una battaglia a favore del buonsenso e dell'aritmetica che noi stiamo combattendo da tempo quindi insomma dobbiamo stare un pochino attenti a perché vengono certe parole d'ordine da quei centri decisionali e la storicizzazione che è una cosa che appassiona il collega Tabacci giustamente ci spiega che il Green Deal era un Green Deal a misura di Germania e parla al passato perché diamo già per certo cioè a misura di Cina perché ci dobbiamo ricordare che la Germania è sempre stata tra la visione una cover verde vuole ricordare verde militare naturalmente perché chiaro sappiamo Meloni settembre 2022 pronti a tutelare i diritti del superbonus a migliorare le agevolazioni del diritto vicepremio Mattio Salvino ma c'è stata la gara degli emendamenti ma stiamo a scherzare ma già si è il primo voto comunque sì io non riesco a dire il superbonus è purtroppo un po' colpa di tutti non ho trovato nessuno che non abbia detto mai non va bene ma amici cari una volta scusate però correva chi era più realista diamoci anche un po' una lezione di metodo se contro il voto di una parte politica viene messa in piedi una cosa che non funziona poi quella parte politica ha anche il dovere di sabotarla cioè ma scusate qua vengono fatte si è volato alto si è parlato del progetto qualche anno di troppo di superbonus c'è sicuramente stato potevamo diciamo ci sono state varie occasioni è dovuto arrivare il ministro Giorgetti che era già ministro anche dello sviluppo economico Presidente Europa Mef era un altro Europa Mef grazie Alberto Bagnaio Grazie Alberto Bagnaio grazie a Bruno Tabacci grazie a Giulia Pastorelli infatti siamo trovati a merito suo a tutti voi